Probabilmente siamo stati fortunati a capitare nel momento giusto e ottenere quello che volevamo contro una squadra forte, che ha una bella fisionomia, che è difficile da controbattere anche sotto l'aspetto tattico. Però, come dicevamo ieri, tutte le squadre hanno delle peculiarità, ma hanno anche degli aspetti da controbattere e noi abbiamo cercato di controbattere quegli aspetti. Per il tempo che è passato, da quando siamo insieme, diciamo che sono soddisfatto. Non sono soddisfatto, totalmente, chiaramente, perché si è visto in maniera lampante che era una squadra che è partita con il freno a mano tirato e non riusciva a tirarlo giù. Abbiamo tentato di abbassarlo nell'intervallo, però non ci siamo riusciti perché abbiamo cominciato anche il secondo tempo così. Anche per merito, e molto per merito della Roma. Ma noi non eravamo... abbiamo avuto bisogno di due o tre sberle per ridiventare un pochino più fluidi. Però diciamo che rispetto ai tempi possiamo essere contenti perché io ho visto molti progetti non andati in porto perché con un po' di pulizia, un po' di maggior pulizia e di tranquillità e forse era una serata che poteva essere anche più soddisfacente. Grazie a tutti.